Un semplice clic sul tasto F12 e l'inserimento di una password per accedere ad una rendicontazione parallela dei compensi non coperti da fattura e dunque sottratti a tassazione. E lo strumento informatico, un software in particolare, che permetteva a numerosi odontoiatri baresi di gestire con facilità una doppia contabilità dei propri introiti. Una frode fiscale scoperta negli scorsi mesi dalle fiamme gialle di Bari e che rappresenta solo una delle fenomenologie criminali a seguito delle quali la Guardia di Finanza, dal 1 gennaio 2022 ad oggi, ha eseguito provvedimenti di sequestro per oltre 300 milioni di euro. La criminalità in questo momento si sta sempre più infiltrando all'interno del tessuto economico. Questo provoca una serie di problemi perché questa alleanza tra una parte della criminalità organizzata o comunque della criminalità e quella parte della borghesia economica che ritiene che violare le leggi sia un fatto irrilevante e pericolosissima perché va a rompere il tessuto sociale. Per questo la Procura insieme alla Guardia di Finanza fa un lavoro importante sul recupero di profitto illecito. Aggressione ai patrimoni illeciti che rappresenta uno strumento di contrasto e di deterrenza alle infiltrazioni della criminalità nell'economia legale, fenomeno che trova corpo in un ampio ventaglio di fatti specie, da quelle legate ai tradizionali metodi mafiosi, ad una nuova connotazione affaristica che si va delineando nelle condotte criminali. I frodi fiscali connesse all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, i frodi connesse alla circolazione e alla monetizzazione dei crediti di imposta fittizi correlati e bonus edilizi, frodi nell'ambito della commercializzazione delle accise e frodi nel settore degli appalti della pubblica amministrazione con la scoperta di diversi episodi corruttivi, nonché distrazione di denaro che viene impiegato per finalità illecite da parte della criminalità organizzata.